facciamo un po di ginnastica che con tutto quello che abbiamo mangiato ci vuole allora iniziamo andate giù ferratevi la punta dei piedi andate giù 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 poi piano tornate su mi raccomando sempre respirando poi passiamo una gamba poi facciamo l'altra e poi di nuovo tutto avanti 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 ok va bene ciao è finita io vado ok a